Quanta na merda, giocate quanta na merda, quanta na merda, giocate quanta na merda Ragazzi ha funzionato, ha funzionato, meno male, messaggio chiaro, quanta na merda I ragazzi sono svegliati, hanno capito, qua Leo ci sta a criticare, dobbiamo essere grintosi, dobbiamo essere come Leo Grande! E poi oltretutto avevo iniziato e questo sapete che non sono mai stato un tipo così che inizia a criticare subito gli allenatori dopo un paio di partite che non vanno Stavo piano piano per iniziare a volere l'esonero di Pioli Ma i ragazzi e l'allenatore probabilmente, di sicuro no, però probabilmente per modo di dire avranno ascoltato il mio video E perché sono contento ragazzi Cosa dire? Lui non è ancora al 100% Lui è alla soglia dei 40 anni Ma lui è un campione Il suo nome è Zlatan Ibrahimović Ma passiamo alla partita Lazio-Napoli per poi ritornare al Milan Lazio-Napoli ragazzi La partita è terminata con un risultato di 1-0 Un risultato ingiusto Perché io, devo dirvi la verità, ho visto un Napoli buono Che meritava il pareggio Poi È un dato di fatto che questo Napoli riesce spesso e volentieri ad autosconvincersi Succede che allo scadere No allo scadere A fine partita Si commetta l'ennesimo errore individuale Io non so veramente Se guardo gli ultimi gol che ha subito il Napoli Sono quasi tutti errori individuali Ospina Cioè già Meret aveva fatto quell'errore contro l'Inter In precedenza La partita scorsa Isai non aveva attaccato Lukaku Quindi un altro errore individuale Stavolta Ospina Non so che cosa gli sia venuto in mente Commette un errore E poi Immobile che non la calcia così perfetta Diciamo non calcia la palla in maniera perfetta Trova comunque un Di Lorenzo che riesce a insaccarla nella propria rete Quindi cosa dire Il Napoli è una squadra ingenua Gli manca una maliziosità Non so questa squadra in tutti questi anni Gli manca la maliziosità Perché ripeto A livello psicologico diciamo Credo che questa squadra piano piano Stia uscendo fuori dal tunnel E' un tunnel in cui ci sono entrati A cui si devono attribuire le colpe Non solo agli allenatori Perché stiamo vedendo Angelotti cosa sta facendo All'Everton che sta facendo bene Lo stesso Gattuso Non sta facendo male perché io vedo E ho visto un Napoli diverso Solo che questo Napoli è ancora troppo ingenuo Deve inculcare Gattuso deve essere capace a far diventare Questo Napoli più malizioso Perché sta uscendo dalla crisi E credo che in futuro Da ora in poi Possa ottenere dei buoni risultati Io credo che il Napoli si possa riprendere La Lazio Non dimentichiamoci E' la squadra del momento E' la decima vittoria di fila Sta giocando veramente un gran calcio Sta facendo molto bene L'eterna incompiuta Sta facendo molto bene Aveva sconfitto in precedenza Due volte nell'arco di pochi giorni La Juventus E quindi Dobbiamo considerare anche questo Il Napoli è andato lì a Roma E meritava tranquillamente il pareggio Ci sono comunque Giocatori che stanno Non stanno performando come dovrebbero Mi viene in mente un Fabian Ruiz Che sicuramente potrà essere importante per il Napoli Si deve riprendere questo giocatore E in generale In linea di massima Tutti quanti Devono continuare così come stanno facendo Perché Ripeto Si stanno riprendendo E diventare più maliziosi Il Napoli Poi c'ha pure la sfiga Colpisce Ha colpito già 14 volte in campionato il palo Lo colpisce anche contro la Lazio E questi errori individuali Purtroppo Ti Ti danno la mazzata E' inutile che qualcuno viene a scrivere Immobile Perché immobile Purtroppo Purtroppo è me E questo Immobile è un giocatore Io anni fa Lo dissi già una volta E come Borini Ma attenzione Non a livello di qualità Immobile qualitativamente è sopra Borini Nettamente Ma condividono questa caratteristica Che sono due giocatori che si impegnano Danno l'anima Io immobile Non l'ho visto mai un giocatore che non dà l'anima Dovunque essi sia andato Qui al Dortmund L'ho potuto vedere da più vicino Diciamo Ed come impegno è stato esemplare Ma gli manca qualcosa a livello internazionale Ragazzi è un dato di fatto La Lazio in Europa League non ci sta E' fuori Che poi ci sarebbe da dire C'ho tante cose da dire Uno va a finire sempre poi Subito in un altro tema Però ci sarebbe da dire Vi ricordate due anni fa Quando ero pro Napoli Perché io simpatizzo il Napoli Quando criticavate tutti quanti Ha snobbato l'Europa Dovrebbe andare Dovrebbe essere punita Adesso a questa Lazio Cosa gli vogliamo dire ragazzi La Lazio ha evidentemente snobbato l'Europa Perché non si spiega Come una squadra Del genere Che sta facendo veramente molto bene Per me Attualmente la squadra Del campionato Attualmente Come posso uscire fuori In un gruppo con Cluj Celtic Stadons Che non lo so come l'ho chiamato in Italia Stade Rennes Porca puttenola Mi è arrivata la telefonata Giusto giusto Quando stavo registrando Allora Stavo per dire Non si spiega altrimenti Quindi Le squadre Snobbano l'Europa Ragazzi Per questo Sminuiamo Quando si vince l'Europa Perché Non tutti vanno con un grande interesse Comunque Ripeto La Lazio sta facendo molto bene Una squadra Tutto sommato Che sta facendo Grandissime cose Non solo Immobile E anche Col Napoli Adesso non è che è stato lui Decisivo È stata una Cappellata Di Di Ospina Accompagnato Dall'ennesimo errore Da parte Questa volta Di Lorenzo Che l'ha in sac Nella propria rete Perciò Finisce così Dispiace Per il Napoli Perché meritava sicuramente Qualcosina in più Ma potrà fare bene Ora veniamo adesso Al Sondaggio Vorrei parlare un attimo Del sondaggio Prima di parlare di Milan Ragazzi Come avete visto Nella community Ho postato Dei sondaggi Per quanto riguarda Le partite di Serie A Lo farò adesso pure Con Roma Juventus Vedremo cosa direte E vedo che state partecipando Numerosi Mi fa piacere Questo è anche un modo Per interagire Mettiamo poi in futuro Magari Anche La foto Mostrando le percentuali Perché siete stati In tanti E ho visto che Per quanto riguarda La partita Lazio-Napole Avete votato in 34 Il 65% Ha votato Per la Lazio Ha avuto ragione Quindi Sì In futuro mettiamo Diciamo Però voglio fare Perché ancora Diciamo Se andate sulla community Sulla bacheca community Vedrete che ancora ci sono E quindi Qualcuno di voi Potrà Postare Potrà dire la sua Diciamo A posteriori O a posteri Non so come si dice In italiano Comunque E perciò diciamo Facciamo Dobbiamo trovare Un orario Ve lo metterò Poi nella community Dove facciamo Un orario di apertura E un orario Di chiusura E vediamo Postandoli Poi diciamo Nei video Vediamo come andiamo Credo che comunque Che faremo bene Perché Ho una community Abbastanza competente E I sondaggi Vi posso già dire Sono andati Avete azzeccato Diciamo i risultati A parte Inter Atalanta Comunque ci sono stati Parecchi X e 2 Credo che sotto Il 50% L'1 Dell'Inter Quindi tutto sommato Bravi Veniamo adesso Al Nostro Grande Milan Che purtroppo Attualmente Un piccolo Milan Ho visto Un buon Milan Anche qua Un Milan Che Ha vinto A Cagliari E Ragazzi Il Cagliari Ve l'ho detto Già l'anno scorso E' una squadra Difficile da affrontare In casa loro Ed è un Cagliari Che sta facendo Tutto sommato Una grande stagione Ultimamente Sta un po' Calando Quindi anche Il periodo Forse è stato Un periodo buono In cui stiamo affrontando Il Cagliari Però sta facendo Tutto sommato Una stagione Buona E Non è facile Vincere lì Ce l'abbiamo fatta Con Un Con un Ibraimovic Che è stato Importante Ha segnato Subito Nella sua prima partita Dall'inizio Ho visto Un Un buon Castilejo Un buon Benasser Meno Cialanolo Che Se andate a vedere Le pagelle E anche Quello che ha avuto La pagella Più bassa Purtroppo ragazzi È inutile Perché ci sono Certoni Che ancora Vogliono insistere No ma il modulo Devi far giocare così No dovresti far giocare 4-3-3 A parte questo discorso Dei moduli Che Sì i moduli Sono importanti Ma il più importante È l'interpretazione Dei moduli Quindi È inutile Dove lo metti Metti Questo è il giocatore È il limitato Cialanolo Non è da Milan Ve l'ho sempre detto Ed ho ragione Accetta che ho avuto ragione Te l'ho detto dall'inizio E ho ragione E anche Ieri È stato Il peggiore in campo Ed è purtroppo così Non trova mai lo specchio Della porta Non riesce a fare I gol importanti Ogni tanto ci vuole Anche un gol Importante Dai centrocampisti E non lo fa Direte ora Suso non ha giocato Meglio così Suso merita la panchina Perché ultimamente Aveva fatto male È giusto che sia così Pionte pure Pionte non credo Che sia diventato Magicamente una pippa Però Non stavano andando Giusto metterli in panchina Bella coppia Ibrahimovic Leao Sono due che si alternano Con Ibrahimovic Abbiamo un giocatore Su cui possiamo puntare Scavalcando Diciamo direttamente Il centrocampo La buttiamo direttamente Ibra È il giocatore Che serviva Ragazzi Perché Non solo che possiamo fare Questo tipo di gioco Abbiamo quest'arma in più Ma anche un giocatore Con carisma Con esperienza Con grinta È inutile Quando si è fuori classe Si è fuori classe Quindi sono molto contento Che Ibra Sia arrivato al Milan Questa è una vittoria Che ci deve servire Da slancio Da trampolino Se così si dice Dobbiamo fare adesso Una striscia E si può fare Al di là della classifica Non guardiamo la classifica Quella purtroppo È quella che è Intanto godiamoci Ibrahimovic Perché ho bisogno Anche di guardare Il lato positivo Noi milanisti L'abbiamo bisogno Più di tutti gli altri Perché non meritiamo ciò E quindi Forza Milan sempre Per quanto riguarda il Milan Quando siete stati In 26 o 28 A votare Anche lì Il 50% Sì In 26 siete stati In 50% A votato per il 2 Ossia 13 Quindi anche lì La maggioranza Ha avuto ragione E niente È interessante Questa cosa Il sontaggio Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Mi raccomando Sempre Forza Mila Sempre Forza Leo Channel Iscrizione Condivisione Eccetera eccetera Ci vediamo alla prossima Statemi bene E un caro saluto Dal vostro Leo Ciao